a sud di ExoMount, ma non ho ancora trovato il posto esatto su Google Maps, cercando di fare match tra la posizione del sole, l'azimut e il sole del momento dell'immagine e i palazzini. Ecco qui, Bailey Beats, l'ultimo a sparire adesso, l'effetto di allargamento della corona è comunque bello, è indice che ci sono vari automatismi in gioco durante questo video. La donata della totalità è proprio quella giusta, cioè quella che loro hanno effettivamente osservato, non hanno fatto tali accelerazioni, spero, in questo replay. E quindi questo non deve essere utile. Continuano ad essercire gli scarichi automatici per vedere la cromosfera, che è più piccola, ma è rossa, la sfera del cromo, cromatica, insomma, del colore rosso. e adesso comincia il pizzo dall'altro lato e finisce la fase di dotanità. Quindi possiamo utilizzare questi fotogrammi per capire un po' di più cosa abbiamo visto e misurare il professore. Serve, ero, la posizione, l'osservazione. Qui vedete una pastina, giriamo...